Sono oltre 1.200 gli studenti piacentini, dalle scuole d'infanzia alle secondarie, che quest'anno scolastico verranno coinvolti nel progetto di educazione alla campagna amica intitolato Acqua, terra, sole, gli elementi del buon cibo e dell'agricoltura sostenibile. Il progetto nasce dall'anima femminile di col diretti, col diretti donne in presa, in stretta collaborazione con col didattica. Il nuovo format del progetto propone, oltre alle consuete lezioni in classe che hanno già avuto inizio nei scorsi giorni, anche strumenti didattici come webinar e strumenti esperienziali come le visite guidate e didattiche nelle aziende agricole, ma anche nelle fattorie didattiche del circuito campagna amica, nei punti vendita aziendali e naturalmente nei mercati contadini di campagna amica e nel mercato coperto di via Farnesiana 17 a Piacenza. Come da tradizione, al termine del percorso saranno gli alunni ad esprimere con un elaborato o un progetto il bagaglio di conoscenze ed esperienze acquisite nel corso dell'anno e il 24 maggio al Palabanca Sport verrà organizzata la festa finale con un programma ricco di attività rivolto a tutti i partecipanti e con le premiazioni degli elaborati valutati da una giuria qualificata. Noi ci teniamo a questo progetto, cioè educazione alla campagna amica, perché possiamo avere un rapporto diretto con i ragazzi, quindi con le future generazioni che saranno i futuri consumatori e possiamo trasferire i nostri principi, i nostri progetti, le nostre idee e i nostri valori. Innanzitutto un cibo genuino, un cibo di qualità e il rispetto dell'ambiente, perché comunque l'imprenditore agricoli e l'agricoltura in generale utilizzando quindi il terreno, quindi il suo strumento di lavoro, per cui deve anche rispettarlo e lo fa e queste sono le idee nostre e soprattutto anche la territorialità noi promuoviamo e quindi il cibo stagionale e il cibo quindi più vicino possibile. Ecco quindi che è una valorizzazione del territorio e una valorizzazione anche della qualità del cibo. Siamo giunti al ventesimo anno del progetto di educazione alimentare alla campagna amica col diretti Piacenza. Sono vent'anni, è un anno questo particolare perché segna, speriamo, definitivamente il post-covid, quindi un ritorno un po' alla normalità, con tante sfide che ci attendono, dal problema del cibo sintetico, il problema della crisi in Ucraina, con la guerra e l'attenzione sempre più alta al cibo e su queste sfide vogliamo sempre di più comunicarle alle nostre generazioni, alle nuove generazioni, alla società, alla città di Piacenza e lo facciamo in un luogo come quello del mercato coperto che è un po' il simbolo della campagna che viene in città e dove ci sono le nostre eccellenze e vogliamo comunicarle ai consumatori attraverso il progetto alle nuove generazioni, quindi ai nostri ragazzi che sono il futuro. Grazie.